L'Università degli Studi di Salerno è la sede dell'Assemblea Codau, dove si è discusso di ricerca, di innovazione, ovviamente il rapporto tra università e aziende. Sì, oggi è stato questo seminario importante all'atere della Borsa della Ricerca e un seminario appunto del rapporto tra università e mondo delle imprese, con ospiti importanti, sono dei rettori dell'Università di Palermo, del Politecnico di Bari, la presenza del già Ministro Profumo, già rettore del Politecnico di Torino e poi ovviamente a livello europeo, con coloro i quali si fanno carico della progettazione europea, la presenza del mio, insomma, e poi i tanti direttori generali. Oggi è il momento della condivisione, delle informazioni, del fare rete, è un momento anche difficile per il sistema paese, il sistema universitario è la forza di questo paese, quindi occasioni come queste servono anche per rinsaldare la rete, il fatto che si sia scelto di farlo qui a Salerno per noi è un motivo assolutamente importante. Poi discutere di terza missione del rapporto con le imprese è assolutamente un elemento che qualifica, che qualifica allo stesso tempo che getta questo punto e che è necessario costruire nell'interesse di tutti i nostri giovani, perché è chiaro che i giovani ci chiedono una ricerca di qualità, una didattica di qualità, ma ci chiedono anche la possibilità di avere concrete opportunità attraverso il placement guidato all'Ateneo, anche concrete possibilità poi di trovare utile collocazioni per gli sforzi che hanno condotto nei percorsi di laurea. Assemblea CODAO all'Università degli Studi di Salerno, tanti punti trattati, temi trattati tra cui ricerca e innovazione, ma ovviamente il rapporto e la terza missione tra università e aziende del territorio. Sì, il CODAO ha organizzato questa assemblea in collaborazione con l'Università di Salerno, in questa fase dove comunque c'è molta attenzione alla missione dell'università, del sistema universitario, sulla ricerca, la terza missione, ma soprattutto sul rapporto ed essere sempre più costante tra il sistema universitario e le imprese. E noi come associazione di direttori generali penso che dobbiamo ormai anche avere questo ruolo di far da tramite nel sistema paese tra queste due realtà. Ad arricchire anche la giornata le testimonianze di diverse realtà del territorio italiano, come Torino, Bari, Palermo per esempio. Sì, ma di solito cerchiamo di dare spazio ovviamente a tutte le realtà del paese perché il confronto insomma anche tra nord, centro e sud va fatto, perché di fatto esiste, anche se credo che vada anche un po' superato insomma questa idea di rimarcare sempre le difficoltà del sud. Mica peraltro, per essere ottimisti insomma, bisogna lavorare tutti nella stessa direzione, il paese è unico. Nel corso dell'assemblea CODAO si discute di ricerca e di innovazione, ovviamente passano dal rapporto tra università, e aziende, è un punto importante su cui soffermarsi. Sì, è un punto fondamentale. L'università ha un ruolo sociale fondamentale sul territorio. L'università deve contribuire alla crescita naturalmente del territorio in tutti i modi possibili. Naturalmente deve dare un contributo fondamentale sul fronte della formazione perché l'università crea, forma i giovani che poi diventano la generazione dirigente del futuro. L'università è importante come terza missione, cioè come ruolo sul territorio, restituzione culturale e quant'altro. Ma l'università deve anche insieme con le imprese contribuire, diciamo, agli aspetti della ricerca applicata, quindi alla ricerca industriale e dello sviluppo tecnologico. Naturalmente le situazioni sono molto diverse da zona a zona perché oggi, per esempio, abbiamo visto delle esperienze estremamente interessanti che sono quelle del Politecnico di Torino, dove c'è un tessuto, diciamo, di un certo tipo, del Politecnico di Bari, dove anche lì, diciamo, c'è un tessuto industriale interessante. Io ho portato il contributo relativamente all'Università di Palermo, dove invece il tessuto è totalmente diverso, dove la collaborazione è su altri settori, per esempio sull'agroalimentare o anche, diciamo, nel grande settore dei beni culturali, che possono comunque essere settori di sviluppo per il territorio siciliano. Nel corso del suo intervento ha analizzato la valutazione della terza missione dell'Università. Quali sono gli aspetti da sottolineare ed evidenziare in questo contesto? L'aspetto fondamentale è il rapporto forte che unisce l'Università al proprio territorio, al territorio da cui provengono i propri studenti, al territorio in cui le famiglie si attendono un progresso non solo della formazione ma anche, diciamo, dei contenuti sociali. In questo senso questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è, diciamo, la forza che l'Università esercita non soltanto nelle due principali missioni che sono ovviamente la formazione, l'insegnamento e la ricerca, ma in tutte quelle attività che si riversano sul territorio di riferimento arricchendo la popolazione di eventi musicali, eventi sociali, eventi culturali che non possono che arricchire non solo lo studente ma tutta la popolazione. Una battuta però sull'Università di Salerno devo strappargli. La quale è il suo giudizio e la sua valutazione in merito? Il mio giudizio io lo riassumerei semplicemente nei numeri. L'Università di Salerno è una delle pochissime, se non forse solo l'Università, che non ha visto una flessione significativa nelle immatricolazioni come hanno visto gli altri atenei e questo evidentemente è il segno più importante che Salerno è una sede sempre più prediletta dagli studenti, sicuramente dagli studenti campani, con qualche accesso anche extra-regionale, un'Università giovane ma che è cresciuta raggiungendo oggi a livello non delle grandi università ma delle medie università italiane, una realtà che in Campania ormai sicuramente ha un ruolo che nessuno vi potrà più togliere.